eccoci qui all'intervista pre partita abbiamo qui la nostra super centrale che compie gli anni quindi tantissimi auguri marta ultima integrata nel gruppo sabato abbiamo una partita importantissima cosa ne pensi siamo cariche abbiamo voglia di prenderci questi punti e voglia di divertirci e far vedere quello che sappiamo fare ok grazie mille marta vi ricordo attivate la campanella e iscrivetevi al canale ciao 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 ciao